Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione di pranzo del nostro TG. In primo piano le nuove regole sull'utilizzo del Green Pass. Da domani, lo sappiamo, certificato verde obbligatorio per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma anche per l'ingresso nelle scuole e anche nelle università. È in corso sui social, su Telegram, in particolare una mobilitazione da parte dei Novax che hanno annunciato delle manifestazioni di protesta in tante stazioni ferroviarie e anche aeroporti. Anche nella nostra regione, a Udine, a Trieste e a Pordenone per il pomeriggio di domani. Non ci fanno partire senza il treno, senza il postaporto schiavitù? Allora, non partirà nessuno. Minacciano i Novax sui social. È stata indetta anche un'altra protesta per il 2 settembre davanti ai palazzi sede di regione. Proprio in questi minuti è in corso anche un comitato dell'ordine sicurezza pubblica a Udine e in prefettura per cercare di capire quali le misure da adottare proprio per gestire al meglio eventuali proteste anche nella nostra città, anche a Udine. E intanto, come detto, domani Green Pass obbligatorio per entrare anche a scuola negli istituti. È attesa per l'arrivo dell'app che dovrebbe consentire un controllo veloce del certificato verde. Già dalla giornata di domani, quando in alcune scuole inizieranno anche gli esami di recupero. In questa prima fase però il personale e anche gli studenti che dovranno accedere alle scuole, agli istituti scolastici non è molto numeroso, quindi il problema appunto del controllo del personale non dovrebbe essere elevato. Ma andiamo a sentire il servizio che fa il punto proprio su questa situazione. C'è attesa nelle scuole per la piattaforma a cui sta lavorando il Ministero dell'Istruzione per agevolare il controllo del Green Pass. Una super app, come è stata definita da alcuni, che consentirebbe alle segreterie degli istituti di conoscere automaticamente tutte le mattine chi è in regola e chi no. I presidi prevedono di conoscere a giorni i dettagli su come funzionerà, mentre già si organizzano per gli esami di recupero che si svolgeranno da mercoledì. Stiamo aspettando la piattaforma e confidiamo che arrivi per l'inizio delle elezioni, come ci è stato assicurato, ha detto Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Per gli esami di riparazione dal 1 settembre faremo i controlli singolarmente. Non prevediamo grandi disagi perché parliamo di 10-20 docenti per scuola. I presidi sono soddisfatti per l'arrivo della super app. Avevamo sollecitato una soluzione del genere i primi di agosto. I dirigenti scolastici si augurano che, comunque, la percentuale di non vaccinati tra il personale della scuola possa scendere ulteriormente. Si tratta di circa 120.000 persone, ma speriamo che il numero si abbatta ancora. Di fronte alla prospettiva di fare un tampone ogni due giorni a proprie spese, confido che le vaccinazioni aumentino. Intanto, le regioni sono al lavoro per i controlli a campioni per gli alunni delle elementari e delle medie. Il presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Federiga, ha convocato per questo pomeriggio alle 15.30 una riunione straordinaria della conferenza delle regioni con, all'ordine del giorno, l'esame del piano di monitoraggio del SARS-CoV-2 con test molecolare su campione salivare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito scolastico. I lavori si svolgeranno in modalità videoconferenza. Questa mattina anche la Commissione Salute della regione Friuli Venezia Giulia si è occupata del tema e ha parlato proprio dei controlli, delle verifiche campione con i test salivari nelle scuole. Nelle prossime edizioni dei nostri ITG vi aggiorneremo appunto anche sui lavori della Commissione Regionale Salute. Intanto, gli ultimi dati sull'andamento del Covid in regione ci riferiscono di 38 nuovi contagi e due decessi nella giornata di ieri. 38 nuovi contagi a fronte di 1.487 tamponi, quindi pochi tamponi e un indice di positività del 2,55%. Le due persone decedute sono una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata all'ospedale di Pordenone e un uomo di 88 anni ricoverato in ospedale a Udine. E sono in aumento i numeri dei malati Covid ricoverati in ospedale. Ci sono 13 persone, 2 in più nell'arco delle 24 ore ricoverate in terapia intensiva. 49, 3 in più nei reparti ordinari degli ospedali. 1.099 le persone in isolamento, 12 in meno. I dati nazionali 4.257 positivi nell'arco delle 24 ore e 53 vittime rispetto alle 37 del giorno precedente. Anche a livello nazionale il numero dei tamponi è piuttosto basso, circa 110.000 a fronte dei 223.000 del giorno precedente. E anche il tasso di positività è in aumento 3,88 rispetto al 2,67 del giorno prima. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 548, 23 in più, 4.262 quelli ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 131 in più. Gli attualmente positivi continuano a salire, siamo a quota 141.393 con un incremento di 346 unità nell'arco delle 24 ore. E adesso parliamo di università, parliamo di università perché questa mattina all'Università di Udine è stato presentato un nuovo corso di laurea con un master in amministrazione e gestione delle aziende sportive. Prima abbiamo sentito il dirigente del Dipartimento di Economia, Garlatti, adesso andiamo a sentire anche la voce di Hermes Canciani, della Lega Nazionale Dilettanti, del Friuli Venezia Giulia, che sottolinea l'importanza di questo corso in amministrazione e gestione delle aziende sportive, ma ci fa anche il quadro della situazione campionato dilettanti legato al Covid. Allora sentiamo l'intervista raccolta da Francesca Santoro. Un corso executive e un master dell'Università di Udine per i futuri manager dello sport. È utile questa iniziativa? Sicuramente sì, perché il nostro mondo ha bisogno assolutamente di professionalità e quindi ritengo che il binomio università, associazioni dilettantistiche, soprattutto con il patrocino del CONI, sia veramente uno strumento fondamentale per il futuro dei nostri dirigenti. Ogni giorno escono delle nuove regole, delle nuove disposizioni e quindi bisogna che le nostre società si trovino preparate. L'emergenza sanitaria ha imposto tante regole in più rispetto al passato, bisogna essere sempre quanto mai aggiornati? Sì, l'emergenza sanitaria poi ha dato un ulteriore colpo di grazia, se vogliamo, a quello che è il mondo delle associazioni sportive e dilettantistiche, perché gli adempimenti che devono essere svolti sono parecchi e ci sono delle responsabilità anche di natura penale e quindi i nostri dirigenti devono trovarsi pronti rispetto a queste richieste. Sul fronte dell'avvio dei campionati dei dilettanti a che punto siamo? Abbiamo iniziato domenica con la prima giornata di Coppa Italia e di Coppa Regione per le categorie dall'eccellenza alla seconda categoria, mentre i ragazzi cominceranno il 3 ottobre i loro campionati. Chi dovrà avere il Green Pass? Come spettatori tutti dovranno avere il Green Pass, la capienza degli impianti all'aperto è al 50% di quelli che sono i dati delle omologazioni, mentre per quanto riguarda gli atleti, al momento gli unici a dover avere il Green Pass sono gli atleti che militano in campionati di interesse nazionale. Nella nostra regione sono la serie D, l'eccellenza maschile e il calcio a 5 e di serie C. E sono più di mille, rimaniamo in ambito universitario, gli aspiranti camici bianchi che venerdì affronteranno il test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle sedi universitarie delle Friuli Venezia Giulia. 431 a Udine, 361 a Trieste e 221 a Pordenone per i corsi di laurea dell'Ateneo di Trieste. Per limitare gli spostamenti anche quest'anno i candidati svolgeranno la prova uguale in tutta Italia nella sede più vicina alla residenza, anche se l'Ateneo prescelto per l'iscrizione dovesse essere un altro. Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine saranno ammessi 150 studenti, mentre sono 393, secondo i dati forniti dall'Università, i ragazzi che hanno indicato l'Ateneo Friulano come prima scelta. Trieste ha invece programmato 180 posti per medicina e chirurgia e 40 per odontoiatria e protesi dentaria. Secondo i dati diffusi dall'Ateneo, in totale sono 582 le presenze confermate al test di venerdì che si terrà a Trieste e Pordenone. Per accedere alla prova sarà obbligatorio il Green Pass. Alcuni giorni dopo toccherà ai test di accesso alle professioni sanitarie in calendario per il 14 settembre alle 13. A Udine sono 954 gli iscritti, poco meno di 400, 393 per la precisione, i posti a disposizione. A Trieste sono attesi 734 candidati, i posti disponibili regolati da un bando regionale sono nel complesso 322. Fisco, concorrenza, reddito, saranno queste le sfide della ripresa sul tavolo del Governo. Anche il tema pensioni, ammortizzatori e delocalizzazioni. Sentiamo. Riforma fiscale, liberalizzazioni, delocalizzazioni, ammortizzatori sociali, ma anche revisione del reddito di cittadinanza e sostituzione di quota 100. I dossier economici che governo e Parlamento si troveranno a dover affrontare dopo la pausa estiva sono molti e complessi e rischiano di trasformarsi in terreno di acceso confronto politico, in concomitanza, peraltro, con la campagna elettorale per le comunali. Settembre è il mese in cui ogni anno il Ministero dell'Economia presenta entro il 27 le nuove stime della Nadef. L'aggiornamento di questo documento contiene il quadro dei conti pubblici aggiornato con le prime linee macroeconomiche che indicano i margini della manovra di bilancio in cui Varo è fissato ora il 20 ottobre. Quest'anno sarà però anche il mese in cui il governo dovrà completare la prima tranche di riforme annunciate nei PNRR, la legge delega sul fisco e il DDL concorrenza, attesi a luglio ma rimandati per concentrarsi allora sulla riforma della giustizia. Il primo intervento su cui convergono tutte le forze politiche è la cancellazione dell'IRAP. Sul tavolo poi c'è anche la riforma della discussione. L'emergenza Covid poi ha messo in evidenza la necessità di proteggere tutti i lavoratori allo stesso modo, diffondendo l'idea di un ammortizzatore universale anche per precari e autonomi. Sul reddito di cittadinanza e pensioni si preannuncia forse il terreno di scontro più duro tra 5 Stelle e Lega. E nel secondo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del secondo trimestre del 2020. Il dato più alto su base tendenziale mai registrato dal 1995. Questa crescita sostenuta, spiega l'Istat, si deve al forte recupero dell'attività produttiva. Ad agosto ad accelerare l'inflazione con l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo che segna un aumento del 2,5% su base mensile e del 2,1% su base annua a livello al top da gennaio 2013. La significativa ripresa delle esportazioni nei comparti del legno arredo e dei pannelli legno da costruzione anche nel Pordenonese, più 26,5% sul primo trimestre del 2019, incrementerà nel prossimo futuro l'esigenza delle aziende di reperire rapidamente tecnici specializzati. Su questo specifico versante, e proprio in questi giorni, grazie all'iniziativa congiunta fra Confindustria Alto Adriatico e Cluster Legno Arredo Casa, è nato un nuovo percorso formativo di ITS Alto Adriatico che risponde alla necessità di innovazione del mondo produttivo del mobile. Debutta infatti un nuovo corso per preparare tecnici superiori esperti in Industri 4.0 per lo specifico comparto. Di durata biennale, con partenza entro il 30 ottobre, il corso prevede fino a un massimo tra 25 e 30 studenti e si sviluppa in 1200 ore tra aula e laboratori e 800 ore di stage in azienda. La sede principale sarà il Consorzio Universitario di Pordenone, ma sono coinvolti numerosi enti per la formazione e l'innovazione presenti sul territorio. L'obiettivo è formare appunto una figura professionale altamente specializzata che progetti e collabori all'implementazione dei processi di digitalizzazione della produzione e alla gestione dell'industria del mobile e dei pannelli semilavorati. Siamo alla cronaca adesso e ci spostiamo a Trieste, dove ieri mattina la polizia ha arrestato per lesioni in concorso, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, due cittadini iracheni classe 1995 regolarmente soggiornanti in città, visibilmente ubriachi, verso le 5 del mattino hanno aggredito un uomo all'esterno di un locale in via Galatti, dando vita a una violenta lite. Una volta arrivata la polizia sul posto, i due stranieri hanno assunto atteggiamenti e comportamenti violenti anche nei confronti degli agenti. Sono stati portati in questura e posti ai domiciliari. E sempre a Trieste la polizia ieri pomeriggio ha denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino kossovaro di 21 anni, ubriaco, ha danneggiato i muri in cartongesso all'interno di una pizzeria in via Oriani. Riforniva le spiagge di droga, arrestato a Caorle un marocchino di 36 anni. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Caorle lo hanno controllato mentre si trovava a bordo della propria auto, all'interno della quale è stato rinvenuto un panetto di hashish di 100 grammi. La successiva perquisizione della sua abitazione a San Stino di Livenza ha permesso di sequestrare altri 100 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e qualche grammo di marijuana, oltre a un bilancino elettronico di precisione. L'uomo è ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Pordenone. Adesso parliamo dei ghiacciai della nostra regione, del ghiacciaio del Monte Canin oggetto di uno studio della carovana delle Alpi di Legambiente che oggi è approdata a Udine proprio per presentare i risultati di questa indagine. Allora subito la lì dalla nostra truppa esterna a Francesca Santoro che ha seguito la conferenza stampa di presentazione di questi risultati. Francesca buongiorno, a voi la linea. Buongiorno Angela, con noi Renato Roberto Colucci, ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Oggi la presentazione dei dati del monitoraggio che la carovana dei ghiacciai ha compiuto sul ghiacciaio del Canin. Qual è lo stato di salute del ghiacciaio del Canin? In realtà non è malaccio rispetto al resto delle Alpi. I piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie infatti negli ultimi 10-15 anni sono stabili dalle misure che abbiamo eseguito assieme all'Università di Udine, all'Università di Trieste e alla Società Meteorologica Alpino Adriatica. La cosa interessante è che quella che sembrerebbe una buona notizia in realtà è sempre figlia del riscaldamento globale in quanto, oltre all'aumentare della temperatura, esso porta con sé una maggiore frequenza di eventi estremi. E sono questi che stanno, come dire, interessando questo settore alpino. In che modo? Con ingenti nevicate che sempre con maggiore frequenza avvengono nel corso degli inverni degli anni 2000. Quindi nonostante l'estate siano sempre più calde e sempre più lunghe, la maggiore neve che arriva da eventi estremi come l'inverno 2020-2021 riescono in questo momento a compensare la perdita, finché la neve non si trasformerà in pioggia in realtà. Vi aspettavate questo risultato? Quando si fa ricerca è sempre meglio non aspettarsi nulla perché si rischia di, come dire, influenzare i risultati finali. Però sicuramente un risultato di questo tipo non era nelle attese. Però il monitoraggio di lungo termine dimostra quanto sia importante farlo perché permette di capire veramente l'evoluzione delle cose e soprattutto di conoscere dei dettagli che magari sfuggirebbero nel disegno globale. Cosa pensate succederà quindi nei prossimi anni? Ma questo sarà interessante monitorarlo, molto dipenderà anche dalle scelte politiche che saranno fatte nei prossimi anni, decenni, per rispettare gli accordi internazionali sul cambiamento climatico. Dal punto di vista scientifico noi ci aspettiamo che se la situazione continuerà ad essere tale tutti i ghiacciai delle Alpi al di sotto dei circa 3.500 metri sono destinati a scomparire nell'arco di 20, massimo 30 anni. Quindi il paesaggio alpino che si è già modificato tantissimo continuerà a modificarsi e le foto saranno diverse. Grazie allora Renato Roberto Colucci, a te Angela. Grazie Francesca Santoro e adesso di nuovo sempre in esterna andiamo da Lorenzo Pausa alla Dacia Arena. Buongiorno Lorenzo. Eccoci Angela qui dall'esterno della Dacia Arena, una buona giornata a te e tutti i nostri telespettatori in questo ultimo giorno di mercato che vedrà alle ore 20 chiudere le trattative per quanto riguarda questa finestra estiva. Noi nel corso della giornata saremo pronti a fornirvi aggiornamenti su eventuali movimenti qua in casa Udinese, lo faremo con dei collegamenti in diretta nell'ultima mezz'ora di trattative dalle 19.30 alle 20 e poi con una trasmissione dedicata dalle 21 alle 22, lo speciale calciomercato condotto da Francesco Pezzella. Il mercato dell'Udinese fino a questo momento ha contato su sette acquisti, ovvero due portieri che sono come sapete Silvestri e Padelli, un difensore Neuen Perez, due esterni destinati Udoge e proprio notizia di queste ultime 24 ore, Brandon Sopì arrivato dal Rennes, giovane classe 2002, poi è arrivato un centrocampista, Lazar Samarzic e un attaccante Isaac Sachsess. Ancora qualcosa potrebbe muoversi nella giornata di oggi, potrebbe essere ceduto qualche elemento in esubero così come potrebbe ancora arrivare qualcuno, un attaccante e soprattutto anche un altro portiere dal momento che Simone Scuffette è stato ceduto definitivamente all'Apoel Nicosia, quindi termina l'avventura del portiere di Remanzacco con la maglia bianconera. Vedremo allora che cosa succederà, noi come dicevo seguiremo il prosieguo di questa ultima giornata di calciomercato come seguiremo però anche la ripresa della preparazione di bianconeri che dopo due giorni di riposo tornano in campo per guardare avanti dopo l'ottima partenza in campionato, ci sono ora due settimane prima della prossima sfida al cospetto dello Spezia, allora si lavorerà intensamente anche con alcune doppie sedute, in particolare in questa settimana che non c'è il campionato, ci sarà un amichevole ancora da definire ma che si svolgerà nella giornata di sabato e quindi questa è la strada tracciata dalla squadra di Mister Gotti dove si andrà a inserire sempre più i nuovi arrivati con la squadra che a questo punto a partire da domani lavorerà nella sua composizione definitiva. Sempre per quanto riguarda la squadra e le potenzialità del gruppo di quest'anno, ha parlato ieri a Udinese Tonight Marco Silvestri, nostro ospite in trasmissione, il portiere è giunto quest'anno dal Verona per fare le veci di Juan Musso, si è già ben distinto con alcune parate anche decisive tra campionato e Coppa Italia e quindi ha parlato ai nostri microfoni proprio di quello che secondo lui il gruppo bianconero può arrivare a fare nel corso di quest'anno, lo ascoltiamo e Polina allo studio. Io penso che l'Udinese abbia tutte le potenzialità per arrivarci, sono anche convinto che quest'anno il campionato è più difficile, è molto più equilibrato, ci sono tante squadre molto molto forti, quindi secondo me è più difficile quest'anno rispetto all'anno scorso, due anni fa al campionato perché anche le squadre, i top club si sono veramente rinforzati molto tutti, quindi ci sono quelle sette, otto squadre che sono veramente di altissimo livello, però io penso che l'Udinese abbia tutte le potenzialità per arrivare alla parte sinistra della classifica anche se l'obiettivo rimane comunque l'ennesima salvezza dell'Udinese. E allora lo ha ricordato Lorenzo Paus, lo ricordiamo anche noi con l'aiuto della grafica, eccola qua la locandina che ci ricorda la nostra prima serata alle 21, speciale calciomercato in diretta per fare il punto sull'Udinese sulla Serie A al termine della sessione estiva di mercato, appuntamento questa sera in diretta alle ore 21. Il Tg ritorna invece come ogni giorno alle 16, io vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro un buon pomeriggio. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì che nel complesso ci regalerà anche ampie zone di sereno, però attenzione un po' di variabilità è da mettere in conto nel pomeriggio, qualche acquazzone interesserà la fascia alpina, prealpina e localmente anche l'alta pianura, specie tra Pordenone e Udine. Ma entriamo più nel dettaglio, provincia appunto proprio di Udine e Pordenone, con questa variabilità pomeridiana, ma guardate, si tratta di fenomeni di passaggio, di breve durata in un contesto che resta comunque ancora ben soleggiato, però al primo mattino temperature frizzantine, scendiamo sotto i 15 gradi e nel pomeriggio non andiamo tra i 25 e i 26. Gorizia e Trieste, situazione lì più tranquilla, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, ma anche qua con temperature relativamente contenute. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.